Titolari ricambi alternative, c'è tutto nel pacchetto centrale rosso-nero, la rosa dei difensori centrali del Milan è molto ben assortita. Connesta in campo a Torino il risultato era fermo sullo 0-0, Sandro è reduce da salvataggi assolutamente significativi, come nel secondo tempo di Milan-Lazio su Sissé e in scivolata su Messi a Barcellona. Tiago Silva rendimento e continuità e soprattutto attaccamento alla squadra, nonostante l'estata difficile tra Coppa America, Pechino nazionale e vacanze ridotte, è sempre disponibile. Iepes si è infortunato il venerdì precedente Juventus-Milan, ma è già rientrato dal Sud America, da valutare anche se non sembra nulla di grave. Il Milan-Cesena aveva fatto benissimo, Bonera, spesso schierato sulla fascia, resta una significativa risorsa anche al centro della difesa. Da non dimenticare poi Rodrigo Eli, il giovane brasiliano, aveva fatto molto bene nel trofeo Luigi Berlusconi e continua a fornire conferme in primavera, rappresentando una buona risorsa per la prima squadra.